Sì, infatti Ogni volta che diceva bravo bravo mi perdevano Tarantino È molto sicuro È grande Prima mi aveva lì Eeeh Eeeh Si è sbossato ai fatti Eeeh 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 L'ho Eeeh 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 2 2 2 4 4 bravo bravo un minuto un minuto bravo come non c'è mettilo subito che c'è ormai l'hai vinto questo l'hai capito bravo a destra bravissimo a destra bravissimo a destra bravissimo let's go 20 secondi Antonio sono molto bello adesso metti la tre e chiudi la con un sino per la sinistra bravo tre bravo chiudi con un sino per la sinistra vai adesso venga 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 tira 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 adesso bravo check tira 10 secondi Due calci, due calci, due calci, uno, e diamo il secondo, e forse il secondo. Sì, 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 sì. Fuori i secondi. Ciao! Dai, bracci! Vai, Checco! Checco, rimedi su. Oh! Anche Takmala! Oh! Takmala! Tiralo e le tira a destra! Tiralo, tiralo, tiralo! Tiralo a destra! Oh! Oh! Lo faccio anche io adesso! Oh! Grande, Checco! Non ho capito un sacco! Uno e mezzo! Bravo! Bello, Checco! Vai, Checco! A destra! Tiralo! A destra! Un minuto! Bravo! Bravo! Lavora molto con i tuoi! Bravo! Bravo! Vai, Checco! Lavora fino a fuci! Cercalo! Cercalo e stretti! Cercalo! Eh! Bravo! Cercalo! 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 Vai, Checco! Dai, Franci! Destra! Oh! Destra! Bravo! Cercalo! Cercalo! Bravo! Bravo! Non lo mollare! No lo mollare! Non lo mollare! Porta, Checco! Porta, Checco! Vai, Checco! Vai, Checco! Grande, Checco! Porta, lo porta! Grande, Checco! Brate, Checco! e' questo è l'ultimo, questo e' quarta sei venuto mal di pranzo è l'ultimo voglio fare, questo e' l'ultimo se ce l'ho questa bocca voglio fare tutti contro tutti Noi ce ne andiamo però, non so? Quali secondi? Quinto e ultimo round. Vai Ghecco! Dai Ghecco! Vai Ghecco! Bravo! Bravo Ghecco! Tutto forte! Tutto forte! Venti Ghecco! Vai Ghecco! Anche tu Ghecco! Anche tu Ghecco! Anche tu Ghecco! Anche tu Ghecco! sono passati 30 secondi entro, entro viene, entra, entra entra al pezzo entra al pezzo dai glancio si, 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 si Ne basta uno, Checco! 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 Un applauso per questo ventino incontro! Bravi! 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 Bravo! Bravo! Checco! Checco! Bravo! Checco! Checco! Vince angolo blu, Antonio Biglietti! L'Unica Pione con l'Osteria Convocazione per ringraziare I volontari della misericordia di Dolianova che sono stati qui Pronti a proteggerci